Dopo la notifica nei giorni scorsi alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al prefetto di Napoli, il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla procura di Salerno per cautelarsi nel caso in cui Renzi non dovesse intervenire, se dovesse vincere De Luca, nei confronti dell'ex sindaco, sospendendolo dalla carica di governatore, applicando la legge Severino. Ad annunciarlo a Salerno la candidata alla presidenza della regione Campania, Valera Ciarambino, che ha contestato le dichiarazioni rilasciate sia dal Premier che da De Luca, invitandoli a non stare sereni, ma al contrario a preoccuparsi di rispettare la legge. Oggi col fatto che il giudice competente e il giudice ordinario si allungano i tempi e De Luca non può più strumentalizzare la magistratura e dire che il Tar lo reintegrerà il secondo dopo, perché sappiamo che i tempi della giustizia ordinaria sono molto più lunghi. La situazione assurda in cui si sta mettendo la campagna è che se scelleratamente questo personaggio dovesse essere votato dai cittadini che non sono a conoscenza di questa situazione, lui verrebbe sospeso immediatamente e ci troveremo in un vuoto istituzionale. Noi abbiamo presentato un esposto al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni, con tutto un dossier riguardo alla situazione giudiziaria di De Luca, intimandoli ad agire secondo legge in maniera tempestiva. Lui, Renzi, ha un ruolo istituzionale di massima garanzia. Purtroppo questo entra in conflitto di interessi col fatto di essere anche il segretario del PD che ha consentito la candidatura di un condannato in primo grado implicato dalla Severino. Ancora più duro e legale del Movimento, Resti Agosto, che ha ipotizzato una richiesta di decadenza dello stesso Renzi se non dovesse applicare la Severino. Noi pensiamo di essere una nazione democratica, crediamo nelle istituzioni e abbiamo presentato questa diffida a Renzi, un atto di significazione di fida per il suo intervento immediato nei confronti di chi si trovi coinvolto nelle problematiche della legge Severino. Noi diciamo, voi ritenete, Presidente del Consiglio dei Ministeri, ritenete che sia necessario un provvedimento di sospensione, allora abbiamo notificato questa diffida sia al prefetto di Napoli, tra l'altro che era l'ex prefetto di Saleno, come voi sapete, e al Presidente del Consiglio dei Ministeri. Questo l'abbiamo fatto circa 20 giorni fa, quindi Renzi sa bene quello che faremo. Nel momento in cui il giorno dopo non accadrà nulla, automaticamente noi faremo un'azione penale dinanzi alla Procura della Repubblica e anche un'azione dinanzi al Tribunale di Roma per far acclarare la sua decadenza da Presidente del Consiglio dei Ministri perché è impatente conflitto di interessi. La storia salenitana ci dimostra che chi segue persone che sono impresentabili purtroppo si trova in cattive acque.